Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. In A1 rallentamenti per veicolo in avaria tra Incisa, Reggello e Firenze Sud in direzione Bologna. Fino all'8 dicembre tratto chiuso per lavori al chilometro zero della strada provinciale 224 di Marina di Pisa, nei pressi dello svincolo di via Quaglierini a Livorno della FIPILI, per una frana avvenuta al chilometro 79 865 proprio della FIPILI. Su raccordo Siana-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano Nord e Impruneta in direzione Firenze. Statale 12 della Betone e del Brennero, provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni, in località Borgo Ammozzano, al chilometro 43 900 a causa di una frana. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!